Grazie Presidente, anche questo emendamento come il precedente manifesta un qualcosa che non si può fare. Giuridicamente in una delibera che va in variante urbanistica rispetto a un progetto chiuso con conferenza di servizi, non è che possiamo aggiungere opere su opere perché l'Aula è sovrana, per carità, però pur volendo non si può fare. Poi in ogni caso, come sapete, per fare opere e interventi di questo tipo servono delle risorse economiche e lo sapete perfettamente che questa amministrazione in questo momento storico, evidentemente senza fare polemica per tutta una serie di ragioni che tutti conoscono, non ha. Io inviterei a essere leggermente più coerenti e lo inviterei soprattutto alle opposizioni perché mi sembra ogni volta che si usano questi pretesti per poi tornare nei territori e dire che i 5 Stelle non vogliono fare questo o non vogliono fare quello, quando in realtà non si può fare. Grazie.